Buonasera, buonasera a tutti, sono Edith Gabrielli, sono la direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia, colgo l'occasione per darvi il benvenuto questa sera alla nostra rassegna al centro di Roma e anche per darvi il benvenuto che ho mancato di dare lo scorso giovedì per la ripresa della rassegna in questo autunno, perché purtroppo io mi sono subito presa un male autunnale e quindi non sono potuta essere presente, ma so che siete stati molto numerosi e che è stata una ripresa assolutamente positiva. Qualche parola sul nostro istituto e qualche aggiornamento. Voi sapete Vittoriano e Palazzo Venezia è un istituto del Ministero della Cultura, per l'esattezza una delle 11 direzioni generali di rilevante interesse culturale dotata di autonomia speciale, che vuol dire autonomia scientifica ma anche organizzativa ed economico-finanziaria, e di queste 11 diciamo almeno per il momento, perché sapete che ne sono state adesso aggiunte altre, è la più giovane, perché noi siamo stati istituiti nel 2019 e siamo venuti operativi nel novembre del 2020. Come dicevo in questi due anni e mezzo abbiamo già ottenuto una serie di risultati che giudico significativi, il più eclatante riguarda senza dubbio il numero dei visitatori, l'anno scorso abbiamo superato i 3 milioni e come vi dicevo nei primi sei mesi di questo anno ci siamo indirizzati molto fortemente verso i 4 milioni. Certo è che adesso su di noi tutti pende l'incognita del cantiere della metro C, i cui effetti negativi su naturalmente il flusso dei visitatori già si cominciano ad avvertire. Ciò nonostante la crescita si conserva ancora molto positiva. Qualche parola sulle nostre principali attività. I grandi progetti strategici proseguono qui su Palazzo Venezia il progetto di riallestimento del piano nobile con il percorso del fatto in Italia, cioè del percorso dedicato alla grande tradizione artistica e artigiana dal medioevo all'inizio del novecento. Prosegue anche qui dovendosi coordinare con qualche difficoltà con i lavori della metro C che prevedono delle opere di consolidamento prima molto impattanti sull'edificio e poi fortunatamente anche delle opere compensative di restauro di cui penso che l'edificio si potrà avvalere. Così come continuano i progetti sul Vittoriano, si sta concludendo il restauro dell'altare della patria. Se siete passati per Prazza Venezia avete visto già i risultati sui laterali che giudico veramente molto positivi perché quest'opera viene eventualmente restituita alla leggibilità. Il lavoro si concluderà il 24 ottobre e il 25 inaugureremo il restauro e in coincidenza una mostra che si intitola La Dea Roma e l'altare della patria, Angelo Zanelli e l'invenzione dei simboli dell'Italia unita con cui racconteremo proprio la storia dell'altare della patria e anche la figura del suo scultore, Angelo Zanelli appunto, presentando anche tutta una serie di materiali finora conservati in deposito che abbiamo studiato e restaurato per l'occasione. Sempre al Vittoriano stiamo procedendo a tappe forzate con il restauro dell'ala sui fori imperiali che come sapete è destinata ad ospitare un centro espositivo di livello internazionale così come con tutti i progetti compreso quello molto consistente da 17 milioni di euro condiviso con il Ministero della Difesa per l'adeguamento impattistico e l'ottenimento di un certificato di prevenzione incendi unitario per tutto il Vittoriano che per me è un grande raggiungimento non tanto per la cifra che ci è stato messo a disposizione ma perché per la prima volta vi è stata affermata nelle carte con forza che il Vittoriano indipendentemente dai soggetti istituzionali che lo occupano è un monumento unitario e va trattato in questo modo. Voi sapete che, lo dico qui a un pubblico in cui vedo tanti specialisti, uno dei motivi di deperimento degli istituti storici, degli edifici storici soprattutto a Roma è stata quella parcellizzazione tra istituzioni diverse a cui sono stati sottoposti e che nel caso di Vittoriano e Palazzo Venezia ha raggiunto livelli esponenziali. Riprendiamo naturalmente insieme ai grandi progetti tutto il nostro percorso di attività, quindi mentre da un lato proseguono le attività di ricerca e presto vi daremo la data per la presentazione del catalogo online del primo gruppo di schede a cui stiamo lavorando, contemporaneamente stiamo portando avanti tutte le attività tra cui una voglio veramente sottolineare è il convegno, vi prego di segnarlo 21 e 22 novembre dedicato a Armando Brasini e il Vittoriano perché ci sembrava impossibile restaurare l'ala Brasini realizzata da Brasini del Vittoriano senza approfondire il ruolo di Brasini sul Vittoriano e come sapete per tutta una serie di motivi estremamente complessi forse uno degli aspetti dell'opera di Brasini meno indagati. E poi appunto le nostre conferenze, le nostre al centro di Roma, lo dico per chi magari è qui per la prima volta, che cos'è questa rassegna? La rassegna che è adesso la seconda edizione nasce dall'idea sostanzialmente della volontà di rilanciare l'area di Piazza Venezia come un luogo di incontro sociale e culturale e lasciatemelo dire, lasciato per la terza volta, ma i lavori della MetroC mi sembrano rendere questa esigenza ancora più urgente di quando ho progettato questo ciclo e lo facciamo come? Chiamando grandi professionisti, grandi studiosi a raccontarci delle loro attività di ricerca e della loro attività professionale costringendoli, grazie anche alla mediazione preziosissima dei curatori dei singoli cicli, a parlare con un linguaggio che sia comprensibile a tutti. Mi sembra, devo dire adesso, mentre ci avviamo alla conclusione della seconda edizione, che questa sfida, che per studiosi e professionisti non è così facile da accettare perché il rischio del linguaggio tecnico e esoterico è sempre un po' dietro l'angolo, sia stata accettata ma anche vinta e credo che la partecipazione sempre più numerosa a queste conferenze sia uno dei motivi. Io chiudo ringraziando Gianluca Pelufo di aver accettato il nostro invito e ringraziando Razio Carpensano di averlo voluto invitare in questa nostra rassegna. Mi taccio e vi auguro buon ascolto. Grazie alla direttrice Edith Gabrielli che naturalmente dà l'opportunità anche a questi curatori di questa rassegna Roma al Centro del Vive di fare un programma e naturalmente di invitare attorno a questo programma figure che possano in qualche modo riempirlo di contenuti e soprattutto garantire al pubblico e quindi anche ai cittadini questo travaso importante che spero possa diventare sempre più osmotico tra le componenti artistico-scientifiche e che naturalmente producono conoscenza e arte con i cittadini che hanno la necessità anche di avvicinarsi a queste cose in una maniera che spesso è respingente dalla parte di chi fa le lezioni e si pone a fare le lezioni e che invece noi vogliamo far diventare un po' più sobrio e un po' più semplice tant'è vero che poi alla fine di questa comunicazione voi siete anche chiamati ovviamente a intervenire con qualche domanda approfittando del nostro ospite e della sua generosità intanto io lo ringrazio perché diciamo oltre aver accettato di parlare si è dovuto anche organizzare diciamo logisticamente perché lui viene dal Medio Oriente e diciamo e siamo riusciti a far centrare questa data diciamo nelle cose quindi comunque voglio dirvi due cose ma proprio brevissime per spiegarvi anche il perché di questo invito a Gianluca Peluffo intanto perché ha realizzato numerose e importanti opere specialmente in Italia e per l'architettura questo non è come si può dire una cosa molto semplice chiunque sa e chiunque sta all'interno di questo mestiere sa benissimo che sono più numerosi le come dire le tragedie che stanno sul cammino di questa professione in termini anche di fallimenti che portare diciamo all'obiettivo alcune opere che implica un lavoro spaventoso non solo dal punto di vista dell'impegno artistico ma anche il lavoro spaventoso che implica una serie di interlocuzioni sempre più faticose sempre più ricorrenti alcune fortunatamente diciamo anche giustamente ostacolate da una serie di cose che si mettono in mezzo ma molte di queste cose che si mettono in mezzo sono inutili e certe volte anche molto dannose quindi questo tipo di resistenza fa degli architetti come Gianluca Peluffo dei combattenti diciamo in prima linea seconda cosa secondo motivo e vivendo in questa attività un importante sodalizio una dolorosa separazione e una felice rinascita anche questi sono tre momenti che nella vita di Gianluca Peluffo nella vita professionale di Gianluca Peluffo secondo me determinano un fattore di grande interesse che poi naturalmente occorrerà consegnare a chi si occuperà di dettagliare diciamo anche dal punto di vista della declinazione della poetica che cosa questo ha comportato però nella genealogia della formazione diciamo del suo iter professionale non si può non parlare della separazione con femmia della dolorosa separazione con femmia ma anche poi della rinascita con alcuni giovani collaboratori che uno dei quali tanto per fare una genealogia interessante si chiama Domenico Faraco e un suo giovane si è laureato con la professoressa Capuano ha fatto il dottorato nel nostro dipartimento con sotto il mio coordinamento e attualmente è assistente anche al mio corso le cose si intrecciano perché i fili della vita sono anche così e poi perché mi interessano molto nella sua attività gli esiti gli effetti del suo lavoro e perché sono interessato agli effetti del suo lavoro perché è un lavoro che vuole aprire gli occhi anche al presente continuamente credo che il lavoro principale di Gianluca Peluffo è proprio questo utilizzare l'architettura per tenere spalancati gli occhi sul presente ma non è il presente continuo quello che va molto di moda che esclude quindi la presenza di un passato è l'avvento e l'avvento di un futuro è semplicemente il presente con tutte le sue contraddizioni con le sue attese estetiche e anche diciamo le sue possiamo dire i suoi travagli che è interessante che un architetto colga perché noi lo sappiamo che il famoso zeitgeist così tanto teorizzato dalla modernità in alcuni tratti del nostro tempo si è dovuto perdere si è dovuto perdere addirittura in qualche caso nascondere per la paura quasi di manifestarsi e abbiamo momenti in cui ci si rifugia nel passato e momenti in cui come dire specialmente negli anni 90 c'erano anche delle fughe in avanti molto ardite e dolorose credo che questo situarsi di Gianluca nel presente sia un elemento davvero di grandissimo interesse che non è facilmente reperibile in molte poetiche contemporanee poi perché appunto questo presente lui lo vuole far respirare attraverso la storia e la storia intesa non come cenere ma come fuoco avrebbe detto il nostro amatissimo amico portoghesi cioè qualcosa da cui diciamo ricavare una lezione che intanto intreccia i fili di genealogie appunto la sua comunicazione si intitola genealogia eretica genealogia o genesi del presente quella scienza che si occupa appunto dei legami di parentela ma che si attua attraverso anche un metodo che è fondato su conoscenze transdisciplinari non si dà genealogia se non ci siano conoscenze transdisciplinari quando io facevo il corso con Manfredo Tafuri come studente a Venezia lui esordiva nelle sue lezioni intrecciando quello che era venuto nella storia sociale nella storia civile, nella geografia, nella musica, nella pittura prima ancora di dirci qualcosa su Berdini o Borromini ecco questo diciamo è l'elemento che fa della genealogia o l'uso della genealogia un elemento di grande preziosità perché serve per annodare e tessere relazioni tra quello che noi facciamo e quello che è il mondo che ci ispira a quello che noi facciamo e al quale rivolgiamo quello che noi facciamo in qualche modo come offerta offerta di ingegno certamente non una prestazione di servizio perché anche questo è un equivoco dal quale l'architettura deve uscire dal punto di vista della società civile cioè noi normalmente veniamo appellati come tecnici è una componente della nostra formazione ma noi abbiamo anche il fuoco sacro della poesia che dobbiamo coltivare, illuminare e proteggere e credo che Gianluca questo lo faccia benissimo eretica forse perché è in disaccordo con quelle generalmente accettate come autorevoli perché ci sono degli alberi genealogici scritti anche nei libri di storia che prevedono che qualcosa nasce in quel punto e poi finisce per raggiungere un altro punto e in questo percorso lineare e coerente che ha un inizio, uno sviluppo lineare e una fine Gianluca cerca anche delle intermittenze delle discontinuità, delle intersezioni e lo vediamo anche in queste, mi consentirà di dirlo intercitazioni che sono dentro il suo lavoro non sono mai citazioni dirette sono delle intercitazioni vuol dire che i prelievi diciamo immaginativi da cui provengono determinate partiture architettoniche o il tentativo di costruire un linguaggio incoerente, eretico sono in qualche modo un modo di come si dice concertare delle disarmonie prestabilite come qualcuno le chiamava tempo fa cos'è la dimensione poetica in architettura? lo stiamo affrontando in un convegno che è a quattro puntate con l'amico Paolo Mosco all'interno dell'Accademia di San Luca io per quanto mi riguarda sono coinvolto anche con una ricerca universitaria che ho presentato e per la quale miracolosamente sono riuscito ad ottenere un piccolo finanziamento anche se diciamo il tema come potete immaginare è in controtendenza se noi lo mettiamo sulle questioni che riguardano oggi l'ecologia le resilienze e quant'altro parlare di poetica in architettura insomma però il lessico poetico di Gianluca non è mai retorico questa è l'altra dimensione importante e poi non si preoccupa come fa o deve fare spesso la poesia di stringere sui mezzi cioè di attuare un'economia di mezzi anche dal punto di vista espressivo in alcuni casi lui si contrae e in alcuni casi si espande e si espande anche con estrema generosità in alcuni casi isola e in altri casi affolla e questo è impone ovviamente di parlare delle sue opere e ne parlerà lui delle sue opere perché far parlare le opere di Gianluca adesso ne dico una per tutti che sicuramente conoscete c'è una lama di cristallo che punta sulla stazione Tiburtina a Roma che è una presenza enorme ma che è fatta della materia dell'aria e quindi è un elemento che nel momento in cui si dà si dà anche come riflesso del luogo che lo ospita compreso il cielo e da questo punto di vista è una sorta di diamante cioè il diamante prezioso perché l'oggetto non c'è sono le sue rifrazioni quelle che contano e da questo punto di vista se uno prende quell'opera e la paragona a quella della moschea vede due cose diverse ma non c'è nessun problema sul cambio di registro perché attraverso l'eretico chiamiamolo così rovesciamento della questione famosa della cifra la poesia non si rivolge alla cifra a se stessi la poesia a qualcosa che deve incontrare nell'opera un risultato che deve essere ovviamente in equilibrio tra la cosa concreta ma anche la sua idea o l'idea che questa cosa può aspirare ho quasi finito quindi noi credo che abbiamo bisogno di riabilitare assieme come dire alla natura immanente e finita anche i caratteri immateriali spirituali e attemporali di questa meravigliosa arte che è l'architettura e io credo che Gianluca ne sia un grande testimone e gli lascio molto volentieri la parola ringraziandolo nuovamente per essere qui per averci regalato per regalarci questo momento di condivisione grazie parlo qui sì ok allora innanzitutto grazie alla direttrice per l'invito che insomma più con invito è un regalo perché questo è un luogo bellissimo grazie Orazio per l'invito per le parole che ha speso che spero di non tradire dunque allora l'idea di genealogia io vi racconterò questo tema attraverso una decina di progetti prometto di andare veloce anche se le immagini sono tante ma andrò veloce allora l'idea di genealogia è essenzialmente l'idea di una scelta nel senso che credo che ognuno di noi in un'attività in qualsiasi attività che svolge ha la possibilità di nel tempo scegliere una propria genealogia ci sono degli innamoramenti degli istinti delle vicinanze dell'affinità che ognuno di noi trova nelle cose in tutte le cose nell'arte in tutte le forme d'arte ma anche nei paesaggi nei luoghi e diciamo a un certo punto a me è successo grazie al diciamo a un lavoro che ho fatto insieme a Claudio Parmigiani per una chiesa che non vi farò vedere perché è una delle tante cose non realizzate e a un certo punto uno prova a fissare questo insieme di cose e si rende conto che costruiscono un percorso e questo percorso è il nostro è personale ed è autobiografico chiaramente però il fatto che sia personale autobiografico e che nello stesso tempo sia condivisibile forse nasconde proprio uno degli aspetti essenziali del nostro lavoro cioè il fatto di avere una componente personale ovviamente essenziale di libertà e di scelte personali però solamente attraverso la coscienza di queste appartenenze personali genealogiche si riesce a rendere condivisibile quello che si fa e quindi vi racconterò un po' questa cosa attraverso i lavori la parola eretica diciamo Orazio l'ha già introdotto diciamo che essenzialmente per me è l'idea che l'architettura sia ancora politica nel senso che sia ancora la connessione fra etica ed estetica che è un diciamo un tentativo eretico credo molto difficile perché credo che diciamo il distacco fra questi due termini sia stato un distacco molto forte molto violento che noi abbiamo subito nella nostra cultura da culture esterne perché voi sapete che diciamo nella nostra cultura mediterranea etica ed estetica sono sempre state collegate è la cultura diciamo anglosassone puritana che le separa perché trasforma le estetiche in estetiche personali quindi non collettive e l'etica invece in etica collettiva che diciamo generalmente è quella del denaro o del successo o del lavoro questa separazione è una separazione che noi abbiamo subito culturalmente e lo vediamo negli ultimi due o tre secoli ultimamente abbiamo subito anche la separazione fra l'arte e l'architettura è una separazione recente molto dolorosa e allora io ho avuto la fortuna di insegnare in una facoltà che non è stata una facoltà dell'architettura non è una fortuna perché non è l'architettura però diciamo è stata una fortuna per me perché ho insegnato allo IUN grazie a Gianni Puglisi e a Vincenzo Trione i rapporti fra l'arte e l'architettura e il ritornare a mettere insieme questi aspetti è uno dei temi centrali della genealogia che provo a raccontare allora vediamo se funziona non sta partendo ecco sì sono andato troppo forte va bene allora ho provato a raccogliere diciamo in tre temi principali sono un paradigma e due metafore il primo paradigma è il corpo l'idea è che l'architettura sia un corpo fisico quindi sia un essere vivente io personalmente e con Arazia abbiamo progettato delle cose molto belle insieme penso sempre che l'edificio sia un corpo che si posiziona in un luogo parla guarda si siede si addormenta invecchia quindi non sia una macchina cioè l'architettura non è meccanicistica il sonno questo poi lo spiego meglio nel senso che io credo che progettare in un luogo sia un po' come addormentarsi cioè noi abbiamo nell'addormentamento una componente volontaria cioè noi decidiamo di addormentarci noi ci sdraiamo diciamo ok adesso mi addormento bastasse quello diciamo nessuno soffrirebbe di insonnia in realtà il sonno ci coglie quindi noi abbiamo una predisposizione al sonno che è una predisposizione diciamo corporea di decidere di volersi addormentare però a un certo punto il mondo intorno a noi il pneuma entra in consonanza con questa nostra volontà e noi ci addormentiamo ma ovviamente non è un atto cosciente faccio questa metafora per dire che l'architettura per me è la stessa cosa c'è un atto volontario progettuale ma poi c'è un luogo un letto una stanza una città un diciamo la nostra volontà di addormentarsi diventa sonno vero e proprio e quindi diciamo sogno ma quindi diciamo un'appartenenza che va oltre la volontà e poi l'ultimo diciamo la seconda metafora il terzo elemento che è il teatro che è l'idea che l'architettura sia la costruzione del cittadino cioè come il teatro greco il teatro greco è l'incontro fra il singolo e la collettività attraverso l'accettazione della tragedia questa connessione crea il cittadino l'architettura è per quello che è diciamo l'idea che noi cerchiamo di praticare è la stessa cosa cioè è un luogo fisico in cui il singolo incontra in uno spazio fisico e spirituale la collettività e ne entra a far parte questa è diciamo la questione forse più eretica nel senso che l'idea che la nostra attività il progettare sia politico perché crea il cittadino è una posizione molto specifica che forse può sembrare ovvia ma in questo momento non è così diciamo diffusa come pensiero perlomeno nell'azione progettuale vabbè ho anticipato le cose quindi vado più velocemente sulla descrizione di questi aspetti ecco questa è l'immagine di partenza perché è una delle immagini diciamo della mia genealogia personale a cui tengo di più tengo moltissimo a questo testo è l'unica cosa che vi leggerò quindi mi perdonerete diciamo c'è stato un tempo in cui i critici d'arte e diciamo i grandi critici d'arte si occupavano di architettura direttamente Longhi si occupava di architettura Raggianti si occupava di architettura Argan l'elenco di architettura l'elenco è molto vasto brandi insomma tantissimi e se ne occupavano con la stessa passione di interesse cioè non era come dire una cosa laterale e questo è successo sino a 30 anni fa diciamo così forse c'è cacciare un po' l'ultimo che anche se di arte lui si occupa molto meno però è un po' l'ultima figura questa cosa non succede più e si collega a quello di cui parlavo prima cioè c'è stata una inconsapevole o consapevole questo non lo sappiamo mai separazione fra i due campi per cui di arte e architettura nessuno si occupa più contemporaneamente Longhi era uno di questi Longhi scrive questo pezzo che è un pezzo credo molto famoso e straordinario su Masaccio in cui lui collega Masaccio a Dante cioè c'è proprio il tema di genealogia per cui l'uomo del medioevo si collega direttamente all'uomo del rinascimento chi vorrebbe provarsi a diminuire anche di un soffio l'ombra che trascorre nel brano dove San Pietro risani malati con l'ombra dopo la visita al buio dell'inferno dove privazione di lume pertanto anche d'ombra Dante uscita dalla luce australia del monte del purgatorio si fa ripetutamente riconoscere come corpo vivo dall'ombra che gli getta su questo punto forse medita Masaccio quel suo modo di rilievo vitale quasi una rivelazione del segreto dell'esistenza terrena in una fisica nobilitata dall'azione dove certo riempire i contemporanei di una meraviglia pari a quella che gli spiriti del purgatorio dantesco provano nell'accorgersi che Dante è vivo perché getta ombra ed anche noi oggi ad ogni nuovo incontro con l'arte di Masaccio viene fatto di usare il tratto dantesco colui non par corpo fittizio da questa radice di certezza esistenziale che non si insabi in angoscia ma sbocca in azione perenne procede il mondo rilevato da Masaccio il suo dramma portato da uomini è decisa a risolverlo e rimane come una delle più alte testimonianze dello spirito umano nell'arte d'Italia allora la genialità creativa di Longhi è quella di collegare Dante e Masaccio attraverso un tema specifico che è la corporeità fisica cioè il fatto che la pittura di Masaccio così come l'arte di Dante è centrata sull'essenza corporea fisica della persona dell'essere umano ma anche del paesaggio della natura e questa essenza corporea è nello stesso tempo anche essenza spirituale perché chiaramente l'ombra che è corpo di San Pietro cura compie il miracolo allora questa vado veloce perché non voglio ovviamente reggere tutte queste cose però diciamo questa idea di architettura come corpo è proprio legata a questo aspetto cioè il fatto che l'architettura che noi dobbiamo e proviamo a fare è un corpo fisico che ha una componente spirituale ed ha una componente di appartenenza alle cose del mondo proprio come è l'appartenenza del nostro addormentarsi di cui vi parlavo prima eh no c'è un'altra cosa che vi devo leggere mi dovete perdonare ed è questo pezzo di Svevo che credo che voi conosciate bene della coscienza è uno dei pezzi iniziali anzi no non ve lo leggo ma è molto banale molto semplice ve lo racconto c'è un momento in cui lui decide di fare un esperimento su se stesso e di comandare razionalmente il movimento delle sue gambe cioè lui dice beh allora io ora comando al ginocchio di piegarsi al piede di appoggiarsi e uno dopo l'altro a muoversi in questa maniera questa volontà razionale di muovere le gambe lo rende zoppo praticamente cioè lo rende diciamo incapace di camminare questo è un po' come l'esempio del sonno di prima nel senso che è evidente che esiste una componente istintiva del corpo che è al di là dell'aspetto razionale volontario e ha un suo linguaggio ha una sua volontà ha una sua energia ha un suo movimento e questo è quello che proviamo si dovrebbe secondo me provare a fare anche in architettura quindi c'è la componente ovviamente razionale è una componente invece che diciamo nella fenomenologia si definisce coscienza incarnata il sonno del sonno vi ho già parlato questi sono i letti di Nivola Merleau-Ponty è quello che studia questo rapporto descrive questo tema dell'addormentamento l'ha fatto prima Sartre ma Merleau-Ponty lo fa meglio in modo più specifico il tema del sonno di cui vi parlavo prima in realtà è un tema legato alla libertà cioè e alla volontà cioè noi vogliamo addormentarci noi vogliamo trasformare un luogo noi vogliamo far vivere meglio le persone vogliamo rendere le persone felici abbiamo questa volontà queste volontà sono fatte di azioni di scelte progettuali tecniche culturali però c'è qualcosa che è al di là delle nostre scelte e che viene innescato attraverso la nostra predisposizione corporea fisica e quindi dell'architettura corporea fisica ad accogliere questa volontà e ad accogliere questo desiderio e quindi diciamo il tema della libertà che è uno dei temi essenziali nel nostro mestiere e anche dolorosi e anche della passività cioè il sonno l'addormentarsi è una componente passiva ecco l'ultima cosa e poi inizio a farvi vedere l'architettura è il tema del teatro di cui vi parlavo prima ve l'ho già detto nel senso il teatro greco è un atto civico di costruzione del cittadino i personaggi che diciamo gli attori del teatro sono l'attore il coro e il pubblico c'è un luogo fisico che ha una componente tecnica molto specifica ha una componente paesaggistica altrettanto straordinaria quindi è un luogo fisico collegato al paesaggio e poi c'è il tema della tragedia cioè l'accettazione della tragedia come elemento di condivisione e creazione del cittadino quindi di entrata a far parte di una collettività non a caso la parola teatro deriva dal verbo vedere Primo Razio parlava diciamo dell'atto di guardare e di vedere che effettivamente per il nostro lavoro è un tema centrale cioè quando si progetta un edificio noi proviamo sempre a pensare a questo edificio guardi qualcosa perché è in un luogo e guarda qualcosa e poi vede perché il vedere è un atto successivo fatto sia di volontà che di diciamo appartenenza vado anche qui velocemente scusatemi ecco vi citavo prima Cacciari Cacciari fa diciamo c'è un libro molto bello che è sull'umanesimo tragico in cui lui parte da questo che era il marchio di Leon Battista Alberti che è l'occhio alato Leon Battista Alberti è una figura tragica nel senso che i suoi iscritti molto spesso parlano della tragedia della vita della difficoltà e l'occhio guarda la tragedia non la rifiuta e tutta la componente tecnica ovviamente di esattezza della lettura che è parte essenziale del rinascimento come sappiamo tutti quindi della prospettiva non è l'obiettivo cioè l'obiettivo non è l'esattezza tecnica del vedere ma l'obiettivo è attraverso l'esattezza tecnica del vedere percepire la realtà che è tragica e tradurla in meraviglia e in bellezza e diciamo lui l'umanismo tragico lo centra proprio su Piero e sul diciamo sul sul volto della risurrezione che è chiaramente un volto che guarda la tragedia ed è un volto classico non a caso bene ok adesso passiamo diciamo a raccontarvi forse sono andato avanti ecco allora come diceva prima Orazio molto giustamente io ho una storia professionale che è stata per 25 anni 23 anni come 5 più 1 avevamo studi a Genova a Milano a Parigi quindi alcune architetture che vi farò vedere come anche BNL di cui ho parlato prima sono architetture che abbiamo fatto come studio 5 più 1 eravamo prima in 6 poi in 5 poi in 2 e poco come i piccoli indiani e questo è diciamo un edificio che io amo molto le foto che vedete sono tutte di Ernesta Caviola che è qui e la ringrazio di SC e la ringrazio anche di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme Giuliano è un luogo della provincia vicentina ai piedi delle prealpi e questi sono i profili delle montagne della prima guerra mondiale quindi qui diciamo è un luogo di circa 700.000 morti italiani e di più diciamo austriaci ed è un luogo diciamo da questo punto di vista ovviamente mitico questo è un testo di Zanzotto che è un grandissimo poeta diciamo del secolo scorso e anche dell'inizio del 2000 di quei luoghi c'è un video però adesso diciamo non voglio perdere troppo tempo c'è un video in cui lui spiega come questo distico che lui ha scritto che è mai mancante neve di metà maggio chi vuoi salvare chi ti ostini a salvare sia per lui la scrittura delle montagne cioè la serie di MN in successione è il profilo delle montagne che lui vede nella sua finestra che sono quelle prealpi allora perché dico questo questo è di nuovo la traduzione di questo tema della corporità dell'appartenenza al mondo cioè nel senso che lo scrivere e la forma della scrittura nella nostra cultura e nella genealogia che io diciamo prova per seguire per quelle che sono le nostre forze è anche la forma del paesaggio la forma dei luoghi cioè c'è una coincidenza fra i volti i corpi le parole la voce il suono delle voci e i luoghi che è un elemento essenziale nel nostro lavoro questi sono i luoghi scusate l'edificio quindi è proprio diciamo una specie di dialogo attraverso la corte centrale della scuola con il profilo di queste montagne quando si deve costruire una comunità e uno degli edifici più straordinari che costruisce la comunità in Italia credo negli ultimi due o tre secoli è la chiesa sull'autostrada di Michelucci quando Michelucci deve costruire una comunità si rivolge a degli elementi che siano condivisibili e archetipici e sono l'albero e la tenda cioè per costruire una comunità che è quella dei religiosi in questo caso dei credenti lui li posiziona costruisce uno spazio fatto di tenda eretto da alberi in cemento armato quando Piero deve raccontare la nascita di una comunità che è la nascita dell'impero cristiano nel sogno di Costantino fa la stessa cosa noi abbiamo provato a fare la stessa cosa con le nostre forze questo è un edificio in mezzo alla campagna quindi molto semplice pianta quadrata sono aree palladiane la corte centrale il tema essenziale ed è diciamo l'aprirsi di questa corte verso il paesaggio un edificio completamente in legno e c'è questo tema del cielo che viene anche riflesso sulla copertura e poi c'è un'apertura al centro appunto sia di colore che di percezione verso l'esterno e di spazio foresta diciamo perché questa corte è una specie di radura all'interno della quale ci si riunisce perché le radure ci orientano è ovviamente un fatto anche simbolico e metaforico rispetto alla costruzione del cittadino in una scuola questo è il dialogo con il profilo delle montagne e questo è il dialogo con il cielo questa è una bellissima copertina di aria di qualche anno fa un disegno di un bambino della seconda elementare della scuola ecco vi ho detto che ho insegnato a Yulm e ci ho insegnato dopo aver costruito questo edificio quindi è stato come dire un onore per me periferia milanese ora non è più periferia perché sapete che diciamo Milano è tutto un centro Barona quindi sud sud-ovest c'era un'area diciamo l'ultima area del campus di Yulm da sviluppare qui il tema era come riscattare la periferia non so se voi conoscete Scerbanenco che è uno scrittore di gialli milanesi degli anni 60-70 molti dei suoi gialli straordinari sono ambientati dalla Barona in questa zona ecco il tema era quello era chiedersi è possibile attraverso quelle che sono le parole della periferia riscattarla cioè invece che inserire un elemento come può essere una torre vetrata una gesticolazione formale più o meno riuscita è possibile usare gli strumenti e le parole della periferia per riscattarla quindi l'opacità la paura l'abbandono la stratificazione di elementi il riferimento in un luogo come quello per noi è stato immediatamente per me perlomeno è stato immediatamente Sironi nella sua tragicità e qui ritorno a questo tema dell'accettare la tragedia di provare a riscattarla e a pacificarsi attraverso l'azione progettuale creativa l'edificio si rifiuta di essere trasparente è un edificio formativo è un edificio per la formazione e per diciamo nel campo dell'arte del giornalismo e costruisce un sistema di percorsi interni ed esterni connessi fra loro e tutti gli spazi di formazione sono all'interno della torre quindi non hanno un affaccio diretto ma hanno una luce diffusa data dalla vetrata nord che vedete qui questa è la pianta molto semplice la sezione un po' più complessa perché qui abbiamo provato un po' a movimentare rispetto all'auditorio da 600 posti quella in alta destra è la sala delle esposizioni dove appunto ho avuto la fortuna nei dieci anni in cui ho insegnato lì di fare alla fine di ogni anno con i ragazzi di Curatela fare una mostra vera e propria con degli artisti importanti la prima mostra che è inaugurata è stata quella di Fabrizio Plessi ecco questo è il tema dell'opacità cioè l'opacità ha bisogno di una reazione luminosa creativa che è quella del rivestimento dell'auditorio un rivestimento ceramico che abbiamo diciamo studiato insieme allora a Casa del Grande e poi è come dire attraverso il contrasto fra opacità e brillantezza si riscatta un cielo che non è un cielo romano diciamo un cielo milanese questo è l'interno dell'auditorium e questi sono gli spazi distributivi come vi dicevo la torre poi al suo interno i modelli che vedete sono modelli in terra io sono di Albissolese quindi che è una delle città della ceramica e ho la fortuna di avere una parte del mio studio dentro lo studio che era di Lucio Fontana dove lui faceva ceramica in un solo e noi abbiamo iniziato da una ventina d'anni a fare modelli in ceramica con Danilo Trogo che è un ceramista albissolese tutti i modelli che noi abbiamo fatto sono modelli ceramici e sono strumenti attraverso quale capire diciamo quelle cose che dentro il progetto è difficile immaginare perché c'è una componente del modello ceramico di sorpresa che è veramente educativa ecco all'interno della torre questa rampa che fa dieci piani all'interno del quale ci sono tutti i laboratori incastrati quindi non esistono i piani veri e propri ma esistono queste figure e poi c'è lo spazio espositivo sul retro che è questa grande figura in cemento armato questa è la prima mostra che abbiamo fatto che è la mostra di Fabrizio Plessi che è stata una mostra molto bella e Fabrizio Plessi per la prima volta ha fatto fare delle foto con delle figure a Ernesta perché lui fa sempre foto senza figure umane ma gli abbiamo talmente rotto le scatole e Ernesta che lo ha fatto e questo è il video il cortometraggio sempre di Ernesta che ha vinto il festival di Atene qualche anno fa su Yulm se avremo tempo ve lo faremo vedere Roma di nuovo no Roma scusate non di nuovo stazione Tiburtina un edificio per 3.000 persone lungo 200 metri quindi difficilissimo dal punto di vista distributivo e anche dal punto di vista architettonico qui ovviamente lo spazio non era il tema perché qui lo era dal punto di vista del lavoro quindi della qualità dello spazio del lavoro ma non era diciamo un tema di spazio condivisibile quindi il tema era questa idea di facciata che potesse dinamicamente secondo un po' la storia del significato della ferrovia restituire l'energia del luogo ma anche la bellezza di un cielo che cambia in continuazione infatti è un edificio diciamo molto fortunato molto fotografato proprio perché riflette il cielo inevitabilmente perché è una zona di Roma che voi conoscete meglio di me che è aperta quindi c'è una riflessione del cielo molto forte quindi il gesto è stato di grandissima semplicità ci sono quegli edifici che sono fortunati ti vengono facili subito e questo è stato molto semplice e questi sono alcuni modelli in fase di lavoro era un concorso diciamo interno privato fra due studi fra noi e uno studio di Milano chiaramente è una diciamo citazione molto diretta dell'edificio più bello che è stato costruito a Milano nell'ultimo secolo che non a caso è stato costruito da un archietto romano che è l'edificio di Luigi Moretti in Corsitalia ci sembrava giusto riportarlo a Roma e quindi diciamo c'è una componente legata ovviamente a questo elemento e poi c'è questo tema della riflessione questo è il modello in terracotta che facciamo con Danilo per il concorso proprio per far capire come la forma era un po' come il tema della prospettiva era uno strumento studiato con esattezza per ottenere un risultato che è un risultato emozionale di percezione della realtà del cielo questo modello è della collezione di Germano Celant perché noi diciamo a un certo punto volevamo con lui fare un lavoro di mostra lui è venuto a vedere il laboratorio di ceramica dove facciamo i modelli e abbiamo iniziato a fare questo lavoro poi lo studio si è sciolto per cui lui mi ha chiesto in cambio di regalargli un modello e quindi è della sua collezione ok queste sono altre foto queste sono alcune piante non voglio andare nel dettaglio perché non mi sembra necessario lo dico nel senso che sono piante molto complesse perché è un edificio così lungo e molto difficile da rendere funzionale ecco vado anche qui veloce questo è un edificio che vi faccio vedere perché credo che nessuno di voi abbia diciamo non è facile vederlo nel senso che è un edificio chiuso dentro il ministero degli interni è nascosto e noi abbiamo iniziato tantissimi anni fa la ristrutturazione interna della caserma Ferdinando di Savoia che vi faccio vedere rapidamente qui c'era un tema di inserire lo spazio pubblico dentro l'edificio dato che è un edificio chiuso però è chiuso ma è aperto a visitatori quindi abbiamo inserito una serie di modi di muoversi all'interno che fossero più generosi possibili e questo era stato il lavoro all'interno di questo edificio sono queste grandi rampe bianche poi abbiamo lavorato con un bianco totale di diversi materiali sempre all'interno di questo edificio che è l'edificio sull'ufficio della polizia del ministero degli interni l'unico edificio ex novo all'interno di questa caserma è la sala prova della banda della polizia di stato che è una banda di qualità ed è stato devo dire molto interessante lavorare su questo tema la sala prova ha un vantaggio rispetto alle sale musicali in generale che non ha il pubblico e quindi può essere centrale cioè nel senso che noi siamo abituati alla frontalità invece c'era una possibilità di centralità e allora diciamo il tema qui è stato quello di costruire una specie di archeologia virtuale però fisica cioè virtuale nel senso che non è reale ovviamente però fisica per la costruzione questo è Castro Petorio quindi in realtà era un luogo di grande archeologia che è stata poi in gran parte distrutta con le costruzioni dopo la Roma capitale e allora l'idea è stata quella di inserire una figura iconica all'interno dell'edificio e renderla nascosta quindi questo è questo cono in cemento armato all'interno del quale c'è la sala prove la rampa intorno al cono regge il sistema distributivo queste sono alcune foto di cantiere i cantieri sono sempre più belli degli edifici costruiti nel mio caso forse è un limite però diciamo in generale sono sempre più belli questo è il modello in terra dell'edificio e c'era proprio questo tema di questa archeologia all'interno abbiamo poi questa è una bellissima foto di Ernesta proprio della costruzione qui è un progetto di un po' di anni fa ho capito perché si fanno pochi coni in cemento armato perché Mario Vagnina lo sa meglio di me perché diciamo la spinta esterna la spinta interna del calcestruzzo è diversa e costruire diciamo le casse formi per una struttura di questo tipo è molto complesso molto articolato e lo vedete diciamo da queste immagini questa è l'immagine interna l'idea è proprio che il cono fosse nascosto nel senso che la possibilità di percepirlo arriva solo a chi entra e si avvicina all'edificio proprio come un ritrovamento e poi abbiamo fatto un trattamento del rivestimento in calcestruzza vista questo è l'interno del cono la zona diciamo bar questi sono alcuni brisolei colorati e questo è il sistema di rampe di distribuzione di tutto l'edificio intorno degli uffici veri e propri sia della banda della polizia sia della polizia veri e propri e questo invece è lo spazio interno il tolos diciamo al piano seminterrato dove gli ultimi anni andava Ennio Moricorni con la sua orchestra a suonare a fare prove vedete l'edificio all'esterno è volontariamente diciamo anonimo fra virgolette grigio perché vuole far evocare proprio questa presenza misteriosa archeologica al suo interno concorsi vi faccio vedere alcuni concorsi due o tre che abbiamo fatto insieme con Orazio che non mi spiego perché non l'abbiamo vinto sinceramente allora questo è è una cosa che non riesco non me ne capacito allora questo è il museo della scienza che è un concorso recente che è stato aggiudicato poco tempo fa noi siamo arrivati molto vicini ad essere nei primi cinque siamo arrivati insieme a ottavi settimi settimi su tanti non so quanti erano un tema bellissimo perché vabbè è un'area che conoscete ovviamente molto bene è un'area di grandi edifici infrastrutturali sportivi militari artistici e qui il tema ovviamente ci è sembrato quello di capire come rispetto al tema della scienza si potesse costruire un edificio che avesse una capacità evocativa del tempo al di sopra del presente diciamo così cioè che non fosse legato a un tempo dell'oggi ma a un tempo indefinito quindi il lavoro è stato legato a questo abbiamo fatto questo lavoro con Orazio con Studi Azzurro quindi è stato per me un onore straordinario lavorare con loro io li avevo sfiorati per le celebrazioni dei 150 anni a Torino avevamo fatto insieme la mostra dell'Officina di Grandi Riparazioni però appunto questo è stato un lavoro molto bello anche qui questione genealogica no questo scusate questo è il Maxi mi sa che mi sto sbagliando lo faccio vedere dopo no questo invece è un concorso che ho fatto con altri due amici uno è stato no sono stati tutti e due qui quest'anno che sono Stefano Pugliatti e Beniamino Servino che sono due colleghi che io stimo enormemente completamente diversi diciamo particolari e questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme era l'ampliamento del Maxi per me inspiegabilmente si chiamava Green Maxi non so perché però diciamo era gli archivi i nuovi archivi del Maxi e i laboratori di studio ecco il tema di confrontarsi con poi lo riprendo poi con l'isola della scienza perché è un lavoro appunto completamente diverso ma credo che le tematiche fossero vicine da certi punti di vista anche qui il tema era quello di capire come confrontarsi con un edificio come il Maxi che è un edificio che piace o meno di straordinaria forza linguistica ed espressiva io lo trovo un bellissimo edificio può essere molto criticato ma comunque un edificio molto identificabile e anche che funziona come confrontarsi con un edificio di quel tipo l'idea è quella di fare un lavoro evocativo cioè fare un lavoro sul tema dell'allestimento temporaneo della città quindi il tema del circo risolverlo tecnicamente in una maniera che era assolutamente praticabile quindi andare da tutt'altra parte rispetto al tema dell'evocazione anche qui come poi vedete per il museo della scienza anche se con attori diversi il tema è quello del cortocircuito temporale questi sono alcuni disegni di Beniamino che forse non so se vi ha fatto vedere e questi sono invece il lavoro che abbiamo fatto con lo studio con Domenico con Stefano con Beniamino con Gabriele proprio sull'immaginario da perseguire erano degli edifici metallici in vetro con all'interno gli spazi laboratorio e nel semi interrato gli spazi per gli archivi questi sono alcuni schizzi queste sono le piante dei quattro cerchi c'era un cerchio d'ingresso che era una specie di voliera e questi sono appunto gli edifici fra loro questo è il sistema del verde che era un verde artificiale una specie di limonaia in movimento all'interno dello zona del maxi questo è il sistema delle stratificazioni e queste sono appunto alcune immagini e questo è quello che diciamo nella nostra idea si doveva vedere uscendo dal maxi al di sotto diciamo del maxi stesso questa è la voliera d'ingresso che poi era tutta la distribuzione degli spazi di archivi e di laboratorio è stato un lavoro bellissimo divertentissimo molto alcolico beh perché con Stefano può che essere così ecco questo invece è quello di cui stavo parlando prima su cui abbiamo lavorato con Conorazzi e con Studi Azzurro diciamo uno dei punti di partenza è stato questo diagramma esoterico devo dire di concorso in cui diciamo con grande diciamo efficacia si indicavano le superfici e questo ci è sembrato subito una specie di sezione aurea per cui il lavoro è iniziato un po' da questo punto in questa maniera cioè capire se era possibile immaginare un ingrandirsi alla fibonacci degli spazi partendo dall'ingresso poi avendo tutti gli spazi dagli spazi flessibili e poi invece di esposizione vera e propria e poi l'altro tema che era quello di cui vi parlavo prima era un'evocazione un po' al di fuori del tempo nella tradizione delle grandi esposizioni che a Roma ovviamente hanno una grande forza una grande referenza a Roma a Torino ovviamente in tutti gli spazi da Nervi a anche Moretti come il parcheggio di Villa Borghese questo è lo schizzo di Studi Azzurro che un po' spiegava questa idea di avere un grande archivio che era il cuore di questo museo intorno al quale si muovevano in modi sempre differenti sia le persone che le cose da esporre che poi si è tradotto appunto in questo spazio con queste coperture in calcestruzzo all'interno del quale era incastrato uno spazio questo è un bellissimo disegno di Orazio che mi ha detto che mi regalava ma non l'ho visto ecco questa è la planimetria qui il tema era proprio quello della rotazione secondo l'orientamento quindi nord-sud del sistema di copertura perché ovviamente era un sistema di protezione della luce e di filtraggio della luce vedete questo è il rapporto con il Maxi e questo è il fronte diciamo principale c'era la richiesta di mantenere il recinto esistente che ovviamente nessuno dei cinque finalisti ha rispettato ma questo è normale e questo è il sistema di coperture e il prospetto dell'edificio questa è una stratificazione appunto dei vari elementi che costituivano un po' tutto il tutto il museo questo è l'ingresso laterale che avevamo mantenuto perché ci sembrava proprio in questa idea di cortocircuito temporale molto giusto mantenere una parte esistente perché creava proprio una temporalità dell'edificio e questo è il fronte diciamo che guarda verso il Maxi e qui invece è la vista dal Maxi e questa è un'immagine dell'interno allora un altro concorso sempre con Orazio anche questo qui invece eravamo nei finalisti la copertura dello stadio del foro io non ho visto il progetto vincitore non so se è stato pubblicato questo è un concorso che abbiamo fatto con Rudy Ricciotti e con Romain Ricciotti quindi c'è diciamo la scelta di lavorare con loro a parte l'affinità che da tantissimi anni abbiamo con loro è legata al fatto che loro sono grandi esperti di un materiale che è il cemento ad alte prestazioni ultraesistente che è diciamo il ductal chiamato come brevetto e ci sembrava il modo più intelligente e efficace di rivestire e coprire l'edificio cioè creare una classicità dell'edificio attraverso questo sistema che vedete di pilastri posizionati secondo gli sforzi della copertura che è una copertura a lacunari questa è l'immagine dell'edificio del progetto di prima fase questo edificio esistente che tutti voi conoscete e quindi c'era questa idea di questa foresta di pilastri sono pilastri a sezione variabile sono proprio come se fossero ossa, gambe cioè molto legate al tema organico si vedono poi dopo questi sono i vari prospetti c'era ovviamente tutto il progetto sulla distribuzione nuova del foro questo è il rapporto con lo stato dei marmi e questo era proprio diciamo anche qui il sistema di percorso come il suolo entra dentro questa specie di foresta di gambe vedete la sezione sono sezioni sempre variabili con una sezione costante all'interno e questo è lo spazio intermedio queste sono le sezioni biofiliche come si dice che sono obbligatorie alle mani concorsi e questo vedete il tetto a lacunari con una parte apribile va beh questo è il padiglione per l'expo di Dubai qui siamo arrivati a secondi nel concorso ve lo faccio vedere come immagini velocemente qui ovviamente è un padiglione quindi c'è un tema evocativo più diciamo immediato chiaramente non è un edificio vero e proprio qui c'era questo l'abbiamo fatto con la fondazione Simbola per cui era un lavoro sulla codifica dei modi di interagire col paesaggio questo è il modello in terra che ho fatto con Danilo e queste sono le varie piante piante devo dire molto espressive ma erano volontariamente molto forti perché si trattava chiaramente di un padiglione vado veloce perché non voglio portare via ancora troppo tempo queste sono alcune immagini dei interni questa è la parte di città turrita quindi l'interno della codifica nella storia dei paesaggi del cibo del modo di costruire poi c'era la parte invece del made in Italy che erano i percorsi più bui con luce artificiale poi c'era questa spirale finale che era il futuro diciamo così dentro un gasometro chiaramente era una serie di citazioni che ci sembrava in questo tipo di lavoro pertinente e questo era il ristorante che aveva questa copertura di foglie dorate questo è un concorso che invece abbiamo vinto perché succede può succedere ed è il Waterfront di Trapani vado anche qui veloce perché insomma il tempo corre un tema interessante perché è un tema di portualità quindi infrastrutturale di città questo concorso abbiamo vinto con lo studio Valle 3.0 qui di Roma con la Technital di Verona con Cameron Andriani come consulente c'è un tema di mercato del pesce che è il tema diciamo di rapporto con la città c'è la stazione in nuovo terminal crociere poi la sistemazione dell'area del Lazzareto questo è il master di concorso questa è la stazione vedete qui c'era questo tema di questo asse verde per cui l'idea è stata quella che era già diciamo indicata nella base nel documento preparatorio del concorso che è stato redatto all'Università di Palermo da professor Maurizio Carta c'era l'idea di questo asse verde che diventasse infrastruttura e l'idea è quella che l'edificio in termini la crociere non sia un edificio in termini architettonici ma sia parte dell'infrastruttura anche perché diciamo confrontarsi la scala delle navi è diciamo molto complesso c'è poi la parte appunto di mercato del pesce che è la parte che vuole un po' essere il fronte verso sud quindi verso le navi della città con questa idea di queste coperture queste coperture che hanno poi questa ceramica colorata esterna nei colori delle chiese di Trapani e all'interno invece un tema di decorazione che abbiamo lavorato con Vito Corte che è un architetto trapanese molto bravo allievo di Pasquale Culotta con cui stiamo lavorando appunto su questo tema e qui c'è anche qui il tema un po' di un cortocircuito temporale cioè un mischiare insieme ceramica con un disegno contemporaneo con il mosaico con i mosaici storici sia romani che romani nord-africani perché quelli romani come sapete erano principalmente nord-africani poi c'è lo spazio della piazza Laggio e poi la sistemazione del lazaretto che ridiventa isola attraverso la demolizione di parte del grande riempimento che è stato realizzato altro concorso invece questo perso vado anche qui veloce questa è la biblioteca la BEIC di Milano l'idea qui è che la biblioteca potesse essere un percorso sia interno che esterno quindi una continuità di movimento a salire quindi non un unico spazio che credo è uno dei motivi per cui diciamo non abbiamo vinto questo concorso perché diciamo la richiesta è sempre quella di uno spazio unico quindi invece l'idea è proprio quella di un nastro all'interno del quale si cammina quindi uno spazio pubblico dentro i libri chiaramente è un edificio corpo questo cioè un edificio che decide di guardare la città da vari punti di vista e si chiude o si apre a secondare l'orientamento rispetto al sole questo è il rapporto col parco avevamo messo degli alberi sul tetto ma abbiamo perso lo stesso quindi poi li abbiamo tolti poi perché non ci sembrava ecco questo è un edificio per noi importante perché credo che abbiate visto come anticipavo un po' Razio i nostri lavori sono ogni volta diversi è un po' il discorso del sonno che vi facevo prima cioè a seconda dove si dorme e del momento in cui ci si addormenta il sonno ci coglie in maniera diversa e credo che un po' il tema del linguaggio dell'architettura sia un po' collegato a questo cioè si è in un posto e quel posto ci accoglie nelle nostre volontà e nell'accoglierci nelle nostre volontà prende una forma i nostri sogni prendono una forma che necessariamente è sempre diversa anche se è nostra e queste sono alcune immagini all'interno vado veloce ecco diciamo chiudo con gli ultimi tre progetti questo è un progetto di quest'anno che è un progetto che diciamo mi sta divertendo molto perché mi sta facendo litigare con tantissime persone ed è un un progetto in un luogo mitico un luogo mitico in modo un po' particolare nel senso Cervinia in realtà è un alpeggio nel senso che il comune è Valtunash che è un comune un po' più in basso Cervinia è mitico perché il Cervino è una montagna meravigliosa diciamo è l'idea di montagna per la sua forma ed è mitico ovviamente perché lì hanno lavorato Carlo Mollino con la Casa del Sole Albini e altri architetti diciamo importanti è una città che però una cittadina che è stata poi costruita tutta quanta negli anni 60 quindi ha una qualità devo dire piuttosto bassa però appunto ha una qualità paesaggistica straordinaria allora vedete questo è il paesaggio gli edifici sinceramente sono piuttosto brutti nel senso che sono anche piuttosto impattanti come succede molto spesso nelle località di montagna allora qui l'idea era quella di capire che tipo di racconto fare nel senso si poteva lavorare con una tematica come quella appunto del monolite qui ci sono stati trovati a Osta dei monoliti decorati straordinari che appartengono un po' a tutta la serie di monoliti che attraversano un po' molte parti d'Italia e non solo questa presenza diciamo anche qui un po' primitiva arcaica ci sembrava un punto di partenza interessante proprio perché non c'era un linguaggio architettonico a cui aggrapparsi nel senso che questo è un edificio di nove piani quindi diciamo alto ma non altissimo è chiaro che la costruzione in legno o la costruzione in pietra non nascono storicamente per edifici alti quindi diciamo il tema di costruire con quei materiali ci sembrava poco opportuno abbiamo avuto un dialogo molto utile con la sovrintendenza che ci ha proprio spinto a non usare questi materiali perché sono anche loro un po' stufi di questo finto appartenenza ai luoghi che non appartiene poi al sistema costruttivo per cui la decisione è stata quella proprio di evocare questo tema del monolite e poi di evocare un tema di fondazione cioè di dire l'edificio si guarda si apre verso il cervino e quindi la sua forma è proprio quella di una figura che si apre verso questa direzione che è la direzione percettiva chiaramente più importante che è a nord in questo caso per cui abbiamo poi lavorato sul tema di apertura verso sud per alcune parti dell'edificio queste sono alcune piante vedete c'è questo tema di aprirsi attraverso questi setti con questa scala che appunto è verso sud e poi diciamo l'idea è quella di un edificio in cui proprio perché il tema è quello del monolite della roccia le aperture sono le bucature sono secondarie e indirizzate esattamente sono delle linee ma la sua essenzialità è un'essenzialità di pieno adesso stiamo studiando se lo costruiremo stiamo studiando un tema di rivestimento che è un tema piuttosto complesso questo è il fronte verso e questo è il rapporto appunto che lo vedete qui con la casa del sole di Mollino e questo è il profilo all'interno della città lo vedete lì in mezzo questa è una vista e questa è un'immagine diciamo ok ultimi due progetti e poi vi lascio liberi ce la facciamo cinque minuti cinque minuti vado velocissimo questa è una città per 40.000 abitanti quindi tanto veloce non posso no scherzo però diciamo no vabbè allora questo è un progetto che stiamo costruendo da otto anni è il primo progetto che abbiamo fatto qui in Egitto ed è appunto una città che è nata come turistica però poi diciamo con la costruzione della nuova capitale che è proprio a metà strada qui fra il Cairo e Socna che è qui sotto a Suez il fatto che ci sia questa nuova capitale ha portato questa città a diventare anche residenziale perché qui è un luogo diciamo molto piacevole rispetto al Cairo che è una città meravigliosa e straordinaria ma molto difficile da vivere qui invece c'è un clima straordinario c'è un vento da nord molto fresco e quindi diciamo questa città che è nata come turistica col tempo è diventata poi invece anche residenziale queste sono alcune foto del sopralluogo che abbiamo fatto con Ernest nel 2015 il luogo è diciamo un po' impegnativo come potete vedere e chiaramente di fronte a questa condizione diciamo costruire una città è già un atto un po' diciamo assurdo e da certi punti di vista impressionante l'atto fondativo che è molto spesso un po' il tema di partenza quando si immagina la costruzione della città qui ci sembrava molto difficile da individuare quindi l'unico tema che ci è venuto in mente questi sono i primi schizzi che ho fatto e ho fatto vedere al cliente quello di scrivere sulle montagne cioè questa presenza così forte di curve di livello ci sembrava il tema sul quale scrivere proprio un racconto che è il racconto della città cioè come come ci si colloca su questo luogo racconti narrazioni poesie parole quindi questo è un po' il tema di partenza il secondo tema è stato pensare che il linguaggio architettonico fosse subito un argomento dell'atto fondativo e quindi diventarsi un racconto che è un racconto molto banale molto semplice c'è l'idea che il primo linguaggio architettonico è quello della tenda ed è un linguaggio che si va a collocare in certi punti specifici che sono forse migliori per il vento alla nord e per la vista e quindi un linguaggio architettonico proprio collegato a questo tema dell'atto fondativo della tenda in questo caso in calcestruzzo in cemento armato queste sono alcune foto di cantiere di quattro anni fa in cui vedete ci sono le prime tende e non è un caso che loro abbiano deciso di iniziare a costruire quelle architetture non le altre un po' perché erano più complesse dal punto di vista costruttivo-tecnico un po' perché si sono resi conto che era l'elemento iconico di appartenenza alla loro storia in qualche maniera che poteva essere l'atto di fondazione e poi diciamo successivamente tutte le altre tipologie che sono tipologie che guardano il paesaggio e si fanno attraversare dal vento come corpi veri e propri che hanno occhi e stanno in piedi o stanno seduti o sdraiati e poi diciamo questo è il progetto complessivo ora noi stiamo diciamo abbiamo quasi concluso questo primo lotto e si stanno facendo tutti gli scavi di questa parte ecco come vi dicevo poi il fatto di diventare poi residenziale ha diciamo spinto il comitente che è un comitente privato egiziano a costruire una moschea e ci hanno chiesto di progettarla ed è stata diciamo una cosa ovviamente molto emozionante e molto interessante perché è un tema molto difficile la prima cosa complicata da capire per noi è che loro hanno voluto che la moschea non fosse centrale ma fosse laterale i motivi erano vari nel senso ovviamente questa è una parte un po' più turistica quindi loro non volevano mischiare la parte turistica vera e propria con la moschea e poi sta su una strada di collegamento generale perché vogliono e desiderano che la moschea chiaramente sia utilizzata anche da persone all'esterno allora rapidissimo e per chiudere voi sapete che nella religione islamica non esistono le figure cioè diciamo l'iconografia non è prevista quindi il tema narrativo è collegato alla parola cioè che è letta oppure scritta e ovviamente c'è inevitabilmente un tema di astrazione cioè nel senso che se voi pensate uno spazio in cui si parla e si legge dove le figure non sono accolte viene naturale pensare che ci sia diciamo un tema di astrazione dello spazio e quindi di rapporto con la luce chiaramente l'astrazione dello spazio è molto collegata al modo in cui la luce entra nello spazio stesso c'è poi un tema molto interessante che differisce profondamente dalla nostra religione ad esempio è che loro come sapete pregano ovunque ma questo può succedere ovviamente anche per noi però pregano con un elemento che è l'elemento che gli dà la direzione verso la mecca quindi il tappeto e il tappeto esiste perché è collegato alla dimensione del corpo nel senso che il tappeto ha una dimensione che permette di essere trasportato ma soprattutto di posizionarsi e pregare se vi è capitato di vedere ogni tanto potete vedere le persone che hanno una specie di callos più scuro sulla fronte è perché sono molto religiosi nel senso che loro vuol dire che pregano almeno 5-6 volte al giorno e appoggiano la fronte sul tappeto in continuazione per cui si crea questo callos queste cose sono cose che implicano un rapporto molto forte fra il singolo e una religione che è molto collettiva molto geografica diciamo così proprio per la direzione e il tappeto è l'elemento di connessione questa idea del modulo fra virgolette cioè del metro per il metro legato alle persone a me ha fatto venire subito in mente subito no non è vero dopo un po' nel senso che ci siamo un po' picchiati sul tema delle cupole perché è un tema istintivo sul tema religioso poi diciamo a me è venuto in mente questo progetto straordinario di Sacripanti che sono anche lì quelle cose che uno ama nella sua propria storia per cui questo progetto per il teatro di Cagliari in cui c'era questo elemento da un metro per un metro che si poteva muovere e cambiare lo spazio ma era collegato al tema dello spettatore del singolo e quindi l'idea è stata quella di capire se questo elemento non potesse essere la forma dell'edificio stesso all'inizio c'era questa idea di chiusura completa poi ne abbiamo parlato anche con Ernesto ne abbiamo parlato sul fatto della necessità di alleggerire e alleggerendo sempre di più ci siamo resi conto che questo tema dell'elemento di luce era proprio il tema del progetto la figura è una figura in contrasto con le altre che lavorano con la curva di livello rettangolare quasi quadrata che ha questi lucernari questi sono gli elementi di servizio che galleggiano perché non hanno una direzione e poi invece la sala principale il matroneo che è la sala delle donne hanno invece la direzione della mecca queste sono le piante del piano terra e queste sono le sezioni con questi elementi questo è diciamo proprio lo spogliare l'edificio lasciando proprio solamente la struttura come elemento quasi inevitabile l'edificio è quasi nudo l'unico elemento che rimane è il matroneo la sala delle donne che ha questa figura invece di morbidezza che si stacca rispetto al resto questa è in lentissima costruzione perché è l'unica cosa che loro non vendono quindi ci mettono un po' a costruirla no è abbastanza avanti adesso sì vi faccio vedere alcune figure poi vi ringrazio queste sono alcune immagini in esecutivo questa è la scala che porta al matroneo questo è il musharabia di separazione fra il matroneo e la sala principale che è in catenelle dorate alcuni di questi elementi sono pozzi sono camini del vento vedete qui poi questi questi cannoni lumiere si ruotano e cambiano la loro posizione e poi c'è questo tema appunto del tappeto che si inserisce vetrato dentro a questi cannoni lumiere questo è il lavoro che stiamo facendo adesso che è molto complesso perché stiamo ovviamente per avere questo effetto c'è bisogno che il colore nel vetro sia in pasta non sia sovrapposto abbia un certo spessore stiamo lavorando proprio su questa su questa individuazione questi sono alcuni lavori sui sui colori di questi elementi queste sono le sezioni e questo è diciamo il tetto questo è il modello in ceramica che abbiamo fatto e queste sono alcune foto di cantieri questa è la fondazione e questo è il lacunare diciamo dove vengono poi incastrati i pozzi di luce sono il minareto ovviamente è l'ostrusione di quattro di questi elementi questa è appunto la sala delle donne il matroneo in costruzione e vi saluto e vi ringrazio e scusate la lunghezza non arriviamo mai a quest'ora però è stato bellissimo no no è stato bellissimo e quindi ringrazio anche le persone che sono rimaste fino all'ultimo che devono lasciare adesso sono molto contento di averti diciamo invitato e soprattutto anche del fatto che ci hai fatto vedere in questi ultimi lavori una cosa che secondo me è una ricchezza diciamo un po' del tuo lavoro è il fatto di essere veramente dentro una traiettoria che nella quale riconoscere un orientamento è difficile però sicuramente che è ricca di direzioni e questo è un elemento importante una volta si diceva anzi molti critici lo pretendevano che gli autori fossero architetti scultori pittori avessero in qualche modo l'obbligo una volta assunta una matrice linguistica di riterarla non solo per affermare la loro cifra e quindi anche rendere riconoscibile il proprio lavoro per agevolare anche diciamo il percorso critico di chi doveva poi continuamente farci conti infatti quelli che sgattaiolavano non erano visti di grande con grande diciamo benevolenza ma dall'altra parte questa coerenza alla ricerca della cifra poi inevitabilmente come sappiamo ha prodotto anche delle cose meravigliose ma anche delle grandi autoreferenzialità addirittura lavori che possono oltre un certo limite definirsi autistici ecco diciamo penso che nella variabilità dei percorsi nella geografia anche dei tuoi incontri professionali ci sono incidentalmente capitato anch'io e te ne ringrazio no no ma è bello questo fatto di diciamo poter affermare di mantenere una coerenza nella ricerca senza che questa abbia una corrispondenza biunivoca con la cifra che si esprime perché poi al di là di tutto quello che conta è appunto l'idea dell'architettura e penso che tu questo lo penso veramente ti possa annoverare tra quelli che amano l'architettura c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda se siete diciamo tanta roba come si dice tanta roba tra l'altro espressa molto sinteticamente però con una generosità sulla parte concettuale che mi sembra anche interessante perché poi l'architettura si vede anche il corpo deve fare ombra sì è una domanda trovo che molte volte queste costruzioni molto studiate e che rappresentano poi questa eresia legata al passato io tante volte per esempio mi faccio riferimento alla costruzione della stazione Tiburtina il grande palazzo coperto di vetro così io ho visitato l'interno e l'interno mi ha sconvolto a dir la verità per la stazione Tiburtina non è quello che ha presentato lui no a parte quello però ne ha parlato non era una critica volevo capire è entrata nella BNL nel palazzo della BNL appuntito che è molto dal punto di vista visivo è interessantissimo perché rompe un po' la monotonia però gli interni mi sono sembrati veramente difficili da viverci da lavorarci perché praticamente lo spazio è diviso in piccoli una frazione di spazio che è molto molto stretto questo dico allora quando uno progetta una cosa si ricorda anche che poi la gente ci deve vivere dentro ecco no perché molte volte c'è questo problema certo non è un'osservazione molto giusta allora quello è un edificio che come diceva è un problema di partenza che è la sua dimensione cioè molto stretto e il tentativo che noi abbiamo fatto era necessariamente avere un fronte principale perché era difficile avere due fronti proprio per l'aspetto distributivo perché se avessimo messo la distribuzione in mezzo non c'erano gli spazi laterali per utilizzare per cui abbiamo messo principalmente la distribuzione su un lato che è il lato diciamo di pietralata questo diciamo ci ha portato a scegliere appunto questa vista attraverso la facciata vetrata che è una direzione principale che è verso il verano diciamo non so poi è una diciamo è una percezione che lei ha avuta e ovviamente è giusta perché è la sua nel senso credo che in realtà lì ci sia una possibilità di vista adesso all'esterno molto generosa molto grande che è un aspetto che nel campo del lavoro non è mai facile avere nel senso che gli uffici di solito purtroppo o hanno bucature molto piccole sono addirittura bui proprio perché la larghezza implica poi di utilizzare gli spazi dove la luce naturale non arriva lì il vantaggio è che essendo piuttosto stretto non è molto efficiente dal punto di vista economico perché è costato diciamo ha degli spazi sprecati necessariamente però ha una qualità della luce interna piuttosto alta rispetto alla media sì questo però capisco quello che vuole dire no perché tante volte che ne so anche all'auditorio di Renzo Viano trovare i bagni è un problema cioè dico ce ne ricordiamo è una cosa molto seria io sarà che sono appena tornata dal Giappone dove ti trovi dei bagni incredibili tu dappertutto nei parchi nelle cose da noi invece che ne so c'è Villa Scelimontana una villa abbastanza importante c'è il bagno ma è sempre chiuso quindi non lo so come non ci ricordiamo insomma è vero che il baie era senza i bagni è un tema molto interessante perché non so se lei sa ma c'è tutta una discussione sulla comodità del palazzo francese rispetto al palazzo italiano nel senso che nella storia diciamo soprattutto nel barocco c'è proprio questo scontro fra l'idea di comodità dell'appartamento nel palazzo francese e invece la scomodità monumentale del palazzo italiano forse è una cosa che ci portiamo dietro c'è un'altra due domande Palazzo perfetto allora a parte io pure sono stato dentro la BNL ho avuto una sensazione un po' diversa insomma poi ognuno ha le sue insomma uno spazio interessante anche nel rapporto con l'esterno proprio e di estrema regolarità poi c'era un tema lì di uso della committenza che poi vabbè è saltato ma quello è un altro discorso noi non l'avevamo poi progettato gli interni comunque mi interessava due parole in più tra diciamo nel concetto tra l'architettura corpo e il momento creativo in cui c'è la scintilla che scatta attraverso il sogno e come queste due componenti possono essere gestite nell'ambito dell'atto diciamo progettuale non solo creativo ma quindi quando poi si trasforma l'idea in architettura e quindi e sì la tua è una domanda chiaramente centrata proprio sulla difficoltà del nostro lavoro nel senso che se tu scegli che la componente diciamo di volontà di razionalità è solo una parte del nostro lavoro inevitabilmente la fase successiva che è una fase non lo so sciamanica o qualcosa del genere è una fase più complessa che non ha delle regole ovviamente è un po' una questione di sentire e credo che Horacio diceva una cosa che mi onora molto nel senso credo che amare molto l'architettura come tutti gli amori ti permetta ti obbliga a sentire molto le cose e a sentirle fisicamente è un po' come nei attacchi di panico che tu senti che ti fa male se ti spostano un tavolo una sedia nel senso che è una cosa molto seria molto difficile però è un po' la stessa cosa nel senso che se tu ami molto una cosa inevitabilmente senti tantissimo credo che sentire molto che è una cosa che si condivide fra architetti ovviamente possa portare se diciamo con molto esercizio credo anche a riuscire a addormentarsi ci sono poi degli strumenti che sono ovviamente di scelta razionale e istintiva che ad esempio credo l'avrei fatto vedere cioè ad esempio gli elementi architipici sono degli strumenti sono degli elementi attraverso i quali creare questa connessione con commistione e questi cortocircuiti temporali cioè è un po' come se tu anticipassi il sogno per permettere di addormentarti ti immagini delle cose che ti anticipano i sogni e allora il cono l'albero il colore l'edificio che ha gli occhi tutte queste cose qua sono tutti strumenti che anticipano i sogni e facilitano l'addormentamento ecco quindi un po' al lavoro è questo Salve io volevo abbiamo avuto poco tempo per parlare della città e siccome poi una città non è solo una sommatoria di case ma è qualcosa di più volevo sapere in due parole quali erano stati un po' i principi che avevano governato la costruzione dello spazio nel suo complesso allora chiaramente è un'osservazione giustissima un tema molto complesso c'è una questione che mi sono reso conto che diciamo noi ovviamente abbiamo una cultura urbana che ha certe caratteristiche per cui il rapporto fra spazio pubblico ed edificio è un tema centrale cioè quindi il filtrare il pubblico verso il privato e tutti gli spazi intermedi sono chiaramente gli elementi centrali del nostro fra gli elementi centrali questa è una cosa che nella loro cultura ad oggi si è persa perché diciamo che loro forse l'hanno avuta ma in maniera molto diversa dalla nostra e poi l'hanno avuta un po' colonizzati nel senso che Cairo è una Parigi sul Nilo viene un po' definita e poi c'è tutto il sistema ovviamente della città ottomana che invece è una città di densità molto grande in cui gli spazi pubblici hanno un ruolo molto specifico però questa cosa culturalmente loro l'hanno persa allora per me è stato più semplice arrivare al pensare di spazi pubblici passando attraverso il linguaggio architettonico cioè è stato molto complesso fargli capire che lo spazio pubblico poteva essere la spina dorsale della città lo è diventata poi diciamo ci siamo arrivati col tempo successivamente però la cosa che è stato un atto proprio voluto che è un po' diciamo la cosa che forse ha funzionato per loro poi non so se funziona come città però diciamo potrebbe è proprio quello di immaginare subito il linguaggio architettonico immediatamente nel senso che come elemento di appartenenza lo spazio poi è successivo è arrivato successivamente ovviamente non è un percorso virtuoso questo è chiaro è un percorso diciamo pragmatico progettuale però ecco è anche vero che è molto difficile cioè la costruzione della città lo sappiamo bene è una follia perché le città nascono col tempo e con i secoli quindi immaginarne una da zero poi sono state fatte straordinarie ma comunque sono atti diciamo di gigantismo anche mentale è una città di turistica è nata come città turistica però sta diventando residenziale per il motivo che dicevo prima perché stanno costruendo una nuova capitale a 40 minuti circa da lì e quindi molte persone che andranno a lavorare nella nuova capitale si stanno trasferendo lì però è nata come città turistica quindi c'era un tema di spazi privati molto definiti e di spazi pubblici da usare per il divertimento però poi l'inserimento della moschea di altri elementi ha trasformato un po' la città bisognerebbe diciamo raccontare solo quella chiaramente però è un tema molto interessante perché è un tema complesso quello che io ho imparato è che è difficile non essere colonialisti progettando nel senso che noi abbiamo una nostra cultura e ti viene istintivo portagliela il lavoro lì è stato un po' quello cioè di svestirsi un po' di cappello e pantaloni corti e cercare un po' di su questa cosa che poneva la professoressa Capuano mi viene da dire solo una cosa ma non possiamo approfondirla oggi qui io trovo che in quel progetto che è un progetto che ha dentro alcuni elementi intuitivi importanti c'è qualcosa che deve essere ancora spiegato e questa cosa che deve essere ancora spiegato è un po' nel famoso rapporto che noi studiavamo da piccoli tra morfologia e tipologia ogni casa di quello sciame di case che si situa sulle curve di livello dove insistono gli elementi di accessibilità porta con sé alcuni chiamiamoli così dispositivi che si potrebbero prestare coralmente all'invenzione di uno spazio pubblico che deve venire e quindi loro sono portatori di sparsi di eccedenza di luoghi che sono regalati all'esterno e che non hanno solo a che vedere con il confinamento privato della casa però è evidente che nella situazione in cui sono in questo momento collegate e come vengono descritte nell'andare avanti della costruzione questo diciamo legame bionivoco tra morfologia e tipologia per semplificare non è ancora del tutto spiegato siccome ho letto velocissimo sì ho letto il giuramento di Pan che secondo me è un libro epocale e ho fatto il parallelo sui concorsi no perché secondo me la necessità di ribadire un'azione diffusa di architettura e volevo solo farti una domanda tutte le sperimentazioni dei concorsi più nelle sperimentazioni dei concorsi c'è una voglia anche di ricreare un linguaggio una contemporaneità anche col fatto di passare da Ricciotti a Beniamino Servino cioè quindi anche delle contaminazioni non so se c'è la necessità di ricreare un linguaggio dell'architettura italiana ecco come faccio a rispondere no mi hai fatto una domanda così una sciocchezza per finire è un argomento interessantissimo non credo che sia quello l'obiettivo però credo che l'obiettivo sia come diceva all'inizio ogni volta avere una componente etica di contenuto diciamo così non so se questo vuol dire essere italiani io penso di sì però diciamo il tema è questo sì grazie 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 a tutti